la librellula è angela e leggera come un volo di rondini a primavera ho anche fatto la rima cose che capitano quando si parla della rivista letteraria di io ci sto che domenica 12 dalle ore 10 alle ore 13 sarà presentata nella nostra libreria la libreria di tutti io ci sto in piaccetta masullo vi ripeto domenica 12 dalle 10 alle 13 non mancate l'ha inventata quel pazzo delizioso e appassionato di gigi agnano che è il socio amico che tutti vorrebbero come compagno di avventure è una rivista fantastica lieve aerea colta piena di novità bella da leggere la produciamo e la presentiamo nella sua versione cartacea e poi sarà sempre anche online vi aspettiamo